Salve a tutti, bentornati al portiere migliore al mondo, questo è il terzo in scaletta dei 5 miei favoriti, stiamo parlando di lui, stiamo parlando di Samir Andanovic, credo che lui sia il portiere completo, però dopo lo sapete che subito dopo la scheda andiamo a fare il video e li parliamo di Andanovic in modo più completo. Andanovic nasce il 14 luglio dell'84, quindi stiamo già parlando di un portiere esperto, in Ljubljana, Slovenia, l'altro portiere sloveno, perché anche Oblak è sloveno, alto 193 cm per 89 kg, quindi stiamo parlando di una montagna, la stessa altezza di Allison per capirci, Oblak è un po' più basso, anche se come vi ho detto l'altra volta sembra molto più grande a vederlo dalla porta. Le giovanili le fa nel Domzale, 2002-2003, poi dal 2002-2003 passa allo Slova Ammarica, dove fa zero presenze. Nel 2003 va allo Zagorie, 11 presenze, torna al Domzale, quindi 2003-2004, fa 7 presenze con 9 gol subiti. Lì inizia l'ascesa di Samir, anche se ha fatto poi tanta gavetta, comunque lì viene in Italia, viene a lavorare con i preparatori italiani, come sapete e come la penso, per me il top rimane l'Italia a livello dei preparatori, a livello di allenatori di portieri, anche se all'estero comunque si sono messi a posto, sono all'avanguardia anche adesso perché ci sono tanti portieri, però Allison è passato da Roma e ci sono altri portieri forti che sono passati dal campionato italiano. Quindi dal 2004-2005 viene comprato dall'Udinese, cui fa tre presenze con due gol subiti. Poi l'Udinese lo gira al Treviso, se ve lo ricordate nella stagione 2005-2006, tre presenze e sei gol subiti, credo che sia retrocesso con l'anno lì il Treviso. Poi viene girato, forse per una serie di scambi, adesso non mi ricordo bene precisamente, alla Lazio nel 2006, quindi la Lazio si era messa in casa un signor portiere, però insomma aveva 22 anni, quindi era un portiere giovane, magari la Lazio non ha voluto puntare su lui sbagliando, perché poi nel calcio ragazzi si sbaglia, e la Lazio fa una presenza. Poi l'Udinese lo gira a Rimini nel 2006-2007, qua è la stagione top di Andanovic, con 39 presenze e 36 gol subiti, torna all'Udinese, quindi dopo la gavetta torna all'Udinese e lì inizia dal 2007-2012, 179 presenze con 221 gol subiti dall'Udinese e nel 2012 viene acquistato, come tutti ormai sappiamo, dall'Inter, quindi il pilastro e capitano dell'Inter. Dal 2012 al 2020 Andanovic colleziona 279 presenze con 296 gol subiti. Viene premiato tre volte come sloveno dell'anno, gioco mondiale nel 2010 con la Slovenia e pensate che in Serie A è il secondo straniero con maggior presenze e il primo logicamente non può essere che Javier Zanetti. Un'altra curiosità su Andanovic è insieme a Gianluca Pagliuca il portiere che ha parato più rigori nella nostra Serie A con 24 rigori parati. Detiene il record di 6 rigori parati in una stagione. Quindi adesso non vi resta che godervi il video e le spiegazioni su Samir Andanovic. Eccoci qua. Ragazzi, stiamo parlando di un top, forte con i piedi, forte in porta, reattivo, ha un'esplosività eccezionale, ha una postura e una posizione che forse è un pochettino troppo alta a volte. Però, ragazzi, questo è un... guardate nelle uscite, è un fenomeno nelle uscite, è un fenomeno nelle uscite basse. Attacca la palla in maniera mostruosa perché per me lui è... è il top, è il top. perché lui il suo corpo lo usa in maniera devastante. Guardate, sempre pronto come accorce in avanti nelle uscite, come lo penso io, quindi anche fuori dall'aria. È un portiere che legge l'azione in maniera assurda, quindi è una lettura, una percezione impressionante. Poi, guardate, la rapidità, la rapidità ai passi, la rapidità, la velocità, la spinta. È eccezionale. Guardate anche a livello tecnico come usa queste braccioni. Guardate, ma più che altro è la rapidità. Qui stiamo parlando di un metro e novantatré. Ha una rapidità assurda, stavamo dicendo. Quindi la sua... qui, vedete, in queste posizioni a volte le usa bene, a volte invece sta troppo alto e lascia passare anche nei tiri che non ha reazione a volte. Però fa delle parate assurda. Guardate come esce, guardate come attacca la palla. A me la cosa che fa impazzire di lui è proprio l'attacco della palla, soprattutto nelle uscite alte e nelle uscite basse. Quindi stiamo parlando di un portiere che ora ha 36 anni. Ma tutto quello che ha fatto è eccezionale. Secondo me lui per forza entra nei migliori portieri al mondo, nei primi cinque. Perché poi si va a vedere sempre l'efficacia. Lui è un altro portiere molto efficace. È un altro portiere che fa la differenza. Ma guardate nelle uscite. A me la cosa principale lui sono le uscite. E nel calcio moderno uscire ora non è facile perché i palloni sono leggeri e fanno tanti spostamenti. Guardate la rapidità per andare giù. Guardate come usa, come dicevo anche nei miei video, se vedete prima nei video della Cararese con i miei ragazzi, che dicevo spesso di Guido, guardate l'altra mano come la porta sempre. C'è sempre l'altra mano. Non è che c'è una mano giù, una mano dietro e una mano... Lui porta tutte e due le mani e poi si distende e usa tutto il corpo. Quindi stiamo parlando di un portiere eccezionale. Caratteristica fondamentale per lui, cioè una caratteristica che ha a livello esponenziale, sono le uscite. Come esce lui, secondo me, ce ne sono pochi, a livello anche mondiale. È impressionante nei tempi e nella distribuzione del corpo. Quando gli arrivano centrale frontalmente addirittura a volte va anche un pochettino di pancia per andare proprio ad attaccare a livello massimo l'estensione del suo corpo. Fa delle cose nelle uscite basse impressionanti. Quindi questa è una caratteristica sua fondamentale e eccezionale. Perché è veramente eccezionale. Qua su immobile, qui rimane fermo e occupa la posizione. Comunque viene in avanti a proteggere quel corpo. Come vedete è a livello di tempi, a livello di lettura eccezionale. Qui non dove andare giù, ma guardate questa contro l'Atalanta. Come attacca la palla e che tempi che ha sul pallone. È veramente devastante quando si va a buttare contro gli attaccanti. Guardate come questa immagine qua, rallentatore, è impressionante la forza che ha. Come vedete ha un'altra caratteristica che lui ha, che è eccezionale. È un grandissimo pararigori. Ve l'ho già detto nella scheda, ha il record insieme a Pagliuga in Serie A dei rigori parati. Questo dimostra che questo ha una lettura impressionante della palla. È superiore a tutti. Come lettura. Questi sono tutti i rigori, e ne ha parati 24 ragazzi. In una stagione 6, solo in una stagione. Quindi ha tuttora il record. Guardate. Poi sicuramente sarà uno che studia gli avversari, che studia il modo, studia i piedi. Però questa è un'altra caratteristica fondamentale di Samira Andanovic. I rigori è vero che non capitano spesso, ma quando capitano, e poi li pari, è portare punti. Questo è un portiere ragazzi che porta tantissimi punti alla propria squadra. All'Inter, in questo caso, in questi anni, ne ha portate tantissimi. Lui è un gran pararigori. Quindi è un'altra caratteristica di Samira Andanovic, che lo rende eccezionale. Agli occhi di tutti. Quindi lui è entrato di diritto nella mia top 5 dei portieri. Siamo al numero 3, dove c'è lui, e presto ne scoprirete altri due. Guardate. E la parado... A tutti, a tutti la parado. Qui vabbè, gli hanno fatto gol, però comunque... È un grandissimo portiere. Bene ragazzi, il video è concluso. Iscrivetevi al canale Stefano Pardini. Cliccate sulla campanellina, che ogni volta che metterò un video vi arriva il messaggino. Quindi a presto sul quarto della mia top 5 migliori portieri al mondo. Un saluto a tutti e a presto.